Due tonnellate 462 chili di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dai carabinieri in uno stabile di Varcaturo, frazione costiera di Giuliano in Campania, in provincia di Napoli. Si tratta di 123.100 pacchetti che se sovrapposti creerebbero una torre di oltre 11 chilometri. I militari hanno pedinato un 58enne e un 27enne fino ad una palazzina, li hanno fermati e poi perquisiti. Nelle loro tasche c'erano le chiavi di un magazzino in un cortile poco distante. All'interno decine di grossi scatoloni, tutti contenenti sigarette di contrabbando stoccate in pacchetti da venti. Imitazioni del noto marchio bianco e rosso, tutte identiche ma prive dei sigilli del monopolio di Stato. I due sono stati arrestati.